Pronto? Pronto? Scusi, non so quanto può servire la mia, perché non sono la sua posizione, però prima che vengano tutti gli scontri, eccetera, sarebbe bene che l'unica persona che può fare qualcosa per fermare questa specie di sommossa che succederà, sarebbe un Prodi, l'unico perché è abbastanza matto Prodi. Se potesse parlare.